La nazione è stata fondata su un principale di Bidrock, che siamo tutti freddi e freddi. Seneca Falls, Selma e Stonewall. L'ordineo persone possono fare cose straordinari. Ti ho già inquadrato, hai cresciuto nel Kansas e Mammina probabilmente ti preparava le torte di mele. Lui è Danny. Benvenuto a New York. Siamo un'organizzazione che lotta per i diritti degli omosessuali. Questa è una retata, tutti contro il muro. Che hai da guardare, Finocchio? È questo che noi combattiamo. Perché non fate niente? Aiutatemi! Ma dobbiamo combattere in maniera pacifica e respingere il radicalismo che vedo prendere piede. Non ho visto avverarsi un solo sogno su Christopher Street, tesoro. Non hanno più niente da perdere. Faremo una parata per commemorare la lotta e la chiameremo Marcia della Liberazione Omosessuale. Vengo anch'io. Non è questo il modo, Danny. Questo è l'unico modo! Non è questo il modo!